Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. L'uomo, miei cari giovani, è nato per lavorare. In poche parole, fate belle vacanze, ma non state mai nozio. Se non lavorate voi, lavora il demonio. Di giorno lavorate, divertitevi, conversate, di notte dormite. Ascoltando Francesco Di Salle Lavorate fedelmente, miei carissimi figli, con la punta superiore della vostra volontà, in mezzo a queste tenebre e aridità. Un'oncia di lavoro fatto in questo modo vale più di cento libbre di quello che si fa nel mezzo delle consolazioni e dei bei sentimenti. E anche se questo è più dolce, tuttavia l'altro è migliore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore ci benedica, ci accompagna e ci guidi in questo giorno, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Noi Don Mosco Bellezza che travolge l'anima Ispirandoci siamo noi Don Mosco A presto! Maria mi amore! A presto! Amore!